Musica 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 Enzo vieni con me te faccio assaggiare una cosa buona Vi La fa wow Boni che spettacolo Questi sarebbero i famosi sfiedini Eh! Se sbagli a parlare qui stiamo in Abruzzo si chiamano a rossicini a rossicini ti ha mangiato magari potessi morire perché? è perché c'è un grave problema ai denti si stanno allentando li sto perdendo tutti e quando mordo non può capire dolore mamma mia ho messo c'ho il posto giusto per te fidati domani te ce porto vero grazie mamma mia te ne ha perso ancora te dico che ne posso mangiare insiste ma che cazzo che devo fare io ma vorrei ma dove ho portato lì ho paura ma te che su forza entra e se ci troviamo al centro di implantologia dentale del dottor Marco Paravano una struttura specializzata nell'implantologia dentale a carico immediato che con tecniche innovative in sole 8 ore e soprattutto senza dolore risolve definitivamente il tuo problema con l'applicazione di nuovi denti fissi su impianti anche con pochissimo osso ma davvero in poche ore? ma che stai scherzando? e fidate l'ho fatto l'anno scorso questo intervento ma dai è una struttura dotata di strumentazione all'avanguardia sala chirurgica sala di genza soprattutto gestita da personale altamente qualificato con presenza anche dell'anestesista che vuoi di più? ehi lo affido a te mi raccomando Enzo intanto stai tranquillo vieni con noi in poche ore risolverò il tuo problema grazie stai in buone mani promesso promesso mi raccomando vai Enzo sono l'anestesista ci siamo adesso ripasso a chi come noi ricompensato tutto preciso tutto caruccio tutto pettinato guarda che sorriso da paura che ti avevo detto? mi sembra zogno tutto questo in un giorno di embe beh aho garantiamo noi centro di implantologia dentale dottor Marco Parravano l'Aquila Avezzano e Pescara l'Aquila